Ancora violenza contro gli animali e questa volta la vittima è un gufo comune sparato e ucciso nella cittadina agropolise. Ad aver dato l'allarme una signora del posto che dopo aver visto il volatile ferito nei pressi della sua abitazione ha avvertito l'EMPA, la quale ha richiesto l'intervento sul posto che è stato effettuato dalla clinica veterinaria Ivette Cilento. Il gufo è stato soccorso ma purtroppo inseguito è morto. Dalla radiografia si evince la presenza di vari proiettili nel corpo del volatile. Probabilmente l'animale è stato sparato da un cacciatore. L'EMPA, in seguito alla morte del gufo, è intervenuta ed ha portato il corpo dell'animale al crass al fine di capire di più sull'accaduto. Il referente dell'EMPA, coinvolto nella questione, è intervenuto sulla vicenda con dichiarazioni dure. Questa è la caccia oggi. I più fortunati muoiono sul colpo. Gli sfortunati, che vengono solo feriti, possono avere un ultimo pizzico di fortuna se trovano un posto abitato da buoni cittadini che lo segnalano, altrimenti sono destinati ad una morte lenta e crudele. Parole che mostrano la delusione di chi dona la propria vita per proteggere gli animali e che fanno capire quanto sia dura questa battaglia. Un cacciatore ha sparato ad un rapace notturno particolarmente protetto per gioco o per sbaglio. Questa sarebbe la vostra idea di difensori dell'ambiente e della natura, conclude il referente dell'EMPA amareggiato.